Qui vi presentiamo le 5 migliori videocitofono Pticino. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Pticino 317.013 kit. Questo citofono videoclip è leggero, elegante e viene fornito completo di due schermi da collocare all'interno e anche all'esterno. Nel pacchetto avrete tutte le piccole cose necessarie per assemblarlo da soli con l'aiuto del libretto delle linee guida. Questo citofono videoclip è costituito da citofono e funzionalità audio e gode anche di una risoluzione video appropriata. Sarete certamente in grado di identificare il visitatore anche durante la notte, grazie alla luce inclusa nel pacchetto che si accende più rapidamente come qualcuno preme l'interruttore. È quindi possibile sostituire il vecchio citofono senza troppa difficoltà, capitalizzando anche sulle interazioni interne tra numerosi spazi in casa. Passando al numero 4 Pticino 317.113 kit. Tra una delle funzioni più ingegnose ci sono il citofono e anche la superba segreteria telefonica. Se non siete destinati ad essere a casa, è ancora possibile nastro check out dai tuoi buoni amici. Se si dispone di una casa o appartamento adeguatamente grande o condomini, è eccellente capire che questo citofono videoclip può essere ampliato tanto quanto un ottimale di tre stazioni. Il pacchetto è costituito da tutto ciò che serve per l'installazione insieme alla fotocamera touchscreen e al pannello o pulsante interno. Con un design ingegnoso, piccolo e anche resistente a qualsiasi temperatura e anche condizioni ambientali, questo telefono porta videoclip a tutto il necessario per rendere la vostra casa molto più sicuro. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3 Pticino 316.913 kit. Questo dispositivo di ingresso della porta videoclip, oltre ad essere compatibile con le telecamere elettroniche e per uso esterno, supporta l'espansione di circa un massimo di due stazioni interne. E' perfetto per quelli di voi che hanno case o case su piani diversi, essendo in grado di produrre un sistema citofono interno se necessario. Comparto, efficace ed estremamente semplice da installare. Questo telefono porta videoclip Pticino si presenterà nel totale impostato con qualsiasi cosa. Realizzato con materiali, solido e soprattutto immune anche a uno dei problemi meteorologici più impegnativi, ha una serie ottimale di 100 metri. E' il citofono video adatto e ideale per gestire fino a due voci separate, in quanto consente di includere una tastiera aggiunta. Per sentirsi davvero anche più sicuri, è possibile sviluppare un sistema di monitoraggio, tra cui anche più di una videocamera e i bra fattori strategici. Almostat è top of our list at number 2. Pticino 365 511 kit. L'attributo più cruciale di questo telefono porta videoclip è la sua camma di colore, per immagini chiare e anche di alta qualità. Questo telefono porta video è uno di minoranza che può essere posizionato sia sulla superficie della parete o su una superficie piana, rendendo piacere in un quadro esterno totalmente resistente all'acqua. Il dispositivo di ingresso della porta clip video arriva qui completo di pannello o pulsante, telefono altoparlante e videocamera. I quattro pulsanti forniti possono essere utilizzati per aprire o chiudere il cancello, collegare il viva voce o attivare le luci prima di saltare. E' bello riconoscere che se si dispone di una grande casa, questo citofono consente di collegare fino a quattro altri monitor. E infine il numero 1 della nostra lista. Pticino 363911 Kit E tra i pochi che possono essere regolati direttamente dal telefono, anche essere in grado di utilizzare un'applicazione sullo smartphone per rilasciare i comandi. E' possibile accendere le luci, accendere le telecamere e anche lasciare che le persone a destra nel cortile aprendo sfratto da lontano. Dotato di bifi e anche touchscreen, è possibile collegarlo per mezzo dei suoi due cavi direttamente al centralino dell'advento. A differenza di altri citofono videoclip sul mercato, con questo si avrà una presenza superba sia in caso di nebbia, pioggia o facile oscurità in quanto è costituito dalle dobianti. Moderna, tecnico e soprattutto incredibilmente molto facile da montare, è possibile utilizzarlo da soli per sbarazzarsi della staffa fornita, sia in case unifamiliari che semi indipendenti. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.